Bene, eccoci amici, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Tele Iblea, vi ricordo che stiamo ancora combattendo con la RAI su questa vicenda della copertura nel territorio della provincia di Ragusa, ci sono degli abboccamenti, possiamo dire, abbiamo presentato dei progetti, speriamo di riuscire in qualche modo a risolvere il problema. Allora, anche se ormai sono passati tre mesi, vi ho detto ieri che sono ritornato da un viaggio che mi ha portato in alcune città famose in Italia, sono stato in Italia e che hanno tutte una caratteristica, sono messe in un cocuzzolo, parlo di alcune città della Toscana e dell'Umbria, che sono messe in un cocuzzolo e che quindi bisogna in qualche modo raggiungere la parte alta e vi assicuro che per quelli che hanno una certa età, che poi magari non sono così arzilli e pimpanti, diventa un problema. Io vi ho fatto vedere ieri per esempio Todi, che ha questo sistema di funivia, eccolo, che porta dalla parte bassa dove c'è un bel posteggio gratuito, anzi no, il posteggio si paga, ma non si paga la filovia, questo treno che porta in Suma, come in tante altre città, è fatto con dei contrappesi ed è una cosa assolutamente ecologica. Invece, quella che mi ha colpito di più, che credo sia davvero il massimo dal punto di vista dei mezzi alternativi, gli ettometrici, per raggiungere il cuore della città e non dimentichiamo che la cattedrale di Spoleto è famosa in tutto il mondo per il, questa ma anche il festival di Spoleto, un posto particolarmente visitato, bene, per andare da giù a su, Spoleto ha inventato questa modalità alternativa, percorso meccanizzato e ascensore. Ecco, cosa ha fatto Spoleto? Ha fatto una metropolitana, ma non di superficie un po' ridicola come quella che vogliamo fare noi, che secondo me serve ben poco, ma ha fatto un percorso sotterraneo che parte da Spoleto Sfera, che sarebbe un grande parcheggio all'inizio della città e poi con questi percorsi meccanizzati si va dalla parte bassa fino alla parte alta di Spoleto utilizzando anche degli ascensori per superare i divari altimetrici che ci sono. Allora, questo si tratta certamente, ecco, questo è il parcheggio, il posteggio dove si entra, si posteggia la macchina e inizia questo percorso, questo percorso che come vedete utilizza i tapis Roulin, che sono una cosa poi alla fine abbastanza semplice, si possono usare anche all'aperto come in città, come Perugia o ad altro e in questo modo si raggiunge abbastanza facilmente il centro della città. Noi lo dovremmo fare al contrario, si scende da sopra a sotto, ma sarebbe una soluzione eccezionale, perché vedete è un po' quello che mi dicevano alcune persone proprio oggi, ma sai sono stato a Scicli e a Scicli questa piazza, questa via Mormino c'era piena di gente, di turisti da tutte le parti del mondo e io devo dire che è vero, cosa che non è a Ibla, ma perché non è a Ibla? Perché c'è anche questa differenza altimetrica che guardate pesa, mentre a Scicli tu trovi un posteggio, e là ci sono problemi di posteggio ma in giro, in pianura lo trovi, anche che ti fai 300-400 metri a piedi non succede niente, a Marina, a Ibla quando tu posteggi, se ti va bene, a metà della circonvallazione con le strisce blu a pagamento e poi ti devi fare tutta la strada fino ad arrivare al ristorante Duomo, si lamentava Ciccio Sultano di questa vicenda, perché i nostri clienti arrivare a piedi fino alla sopra e farsi tutta la salita non è una bella cosa. Allora perché non è mai stato pensato a qualcosa del genere? O meglio, il famoso piano regolatore di ciuffini, Cerberlati e Costa prevedeva tutte queste cose, prevedeva questi passaggi con gli ascensori e le scale mobili, ma noi non le abbiamo mai fatte, perché? Perché noi siamo più bravi di Spoleto, siamo più bravi di Todi, più bravi di altre città, di Viterbo dove per salire per esempio al Palazzo dei Papi c'è l'ascensore. Allora dico, la metropolitana ci risolverà questo problema? La famosa metropolitana di superficie che insisto nel dire, per me è una cavolata paurosa, chi l'ha pensata è pensata, dove ci porterà? Come ci permetterà di arrivare in piazza Duomo senza ammazzarci di fatica in estate o in inverno con la pioggia? Come si farà? Quindi io su questa cosa devo dire sono molto molto dispiaciuto e preoccupato e quando poi sarà il momento discuteremo di questa storia, perché pensate, partiamo dall'ospedale, va bene, arriviamo a Ibla dove? Al Carmine e poi? E poi ci sono gli ascensori che scendono sotto, sì ma dove arriviamo? Arriviamo a Largo San Paolo, dobbiamo sempre fare un bel po' di strada, non è pensabile un percorso a tapirulando, dovremmo fare questo piuttosto di spendere 70-80 milioni per fare le stazioni della metropolitana, ma dai ragazzi guardate che comodità, a parte con i servizi, i bagni, che comodità, vi assicuro che mi sono ricreduto nell'organizzazione italiana, mi dispiace, va bene. Detto questo diceva come ci andiamo in giro? Ieri vi ho fatto cenno a questo articolo che è uscito su molti giornali e parla dell'ENAC, che è l'ente dell'aviazione civile, che magnifica l'aeroporto di Catania convincendo tutti che potrebbe diventare un hub intercontinentale e quindi andare a prendere 300 mila passeggeri, 30 mila passeggeri al giorno, quindi più di 10 milioni di passeggeri l'anno e sarebbe il terzo, il quarto, il terzo aeroporto d'Italia. Io credo che anche l'ENAC certe volte non si renda conto delle stupidaggini che si dicono, ma perché? Perché per diventare un hub intercontinentale, quindi per intercettare i grandi voli che arrivano dalla Cina, dagli Stati Uniti, sì oggi gli aerei sono abbastanza più piccoli, almeno alcuni, ma ci vogliono delle piste più lunghe, per sicurezza. La pista di Catania dovrebbe essere almeno 3200 metri, non vi dico 3.600 come Ciappalermo, l'unico aeroporto siciliano che ha una pista così importante e così grande, i 3.600 metri, noi l'abbiamo a Catania 2.600 esattamente come quella di Comiso. E allora come si allunga l'aeroporto di Catania? L'abbiamo visto, è praticamente impossibile, hanno studiato di internare la ferrovia, di fare a mare e poi come li pigli 30.000 persone al giorno in questo aeroporto che le prende appena appena 10.000, forse sono anche assai, avete visto il casino che c'è quando si arriva a Catania, sembra di essere nel terzo mondo quando escono i bagagli o quando esce la gente dalla porta a vetri, io ricordo, non faccio riferimento, ma ricordo alcuni aeroporti dell'Africa dove praticamente succede esattamente la stessa cosa. Quindi una stupidaggine, allora io vi dico, è un libro dei sogni, ma se Catania volesse davvero utilizzare Comiso e lì sarebbe la grande rivoluzione, la grande rivoluzione come diceva il mago Agen, ma poi il mago Agen ne resta solo mago e nient'altro, sarebbe da fare un collegamento veloce Catania-Comiso, allungare la pista di Comiso a 3.600 metri che si può fare e fare diventare l'hub intercontinentale Comiso, come hanno fatto a Malpensa, Malpensa quelli nate non ce la faceva, era in città e hanno fatto Malpensa proprio per questo, sarebbe una cosa giusta, ma Comiso come si suol dire ne facciamo fottere tutto, quindi io dove pensate di poter andare. Cari amici siciliani, l'ERAC dice stupidaggine perché è il momento elettorale e cerca di prendere consensi, ma sull'aeroporto di Catania il limite è quello e per superare il limite ci vorrà l'inverno. La politica deve pensarci, voi sapete che siamo in attesa dei grandi leader, abbiamo visto ieri Letta, che ha parlato anche della Chinnici e sappiamo che la Chinnici sarà qua a Ragusa a fine settimana con due importanti appuntamenti, ce lo dice anello di Pasquale, vediamo.